Una speciale ripresa delle lezioni stamattina per i bambini che frequentano la scuola materna di Nago, che al suono della prima campanella del 2016 hanno fatto il loro ingresso nel nuovo polo scolastico situato in località Tezze, aperto agli inizi dello scorso settembre. La nuova scuola dell'infanzia, che ospita due sezioni con un totale di 56 alunni, è una struttura moderna e funzionale, costruita sulle esigenze dei bambini e secondo i criteri della bioarchitettura e del risparmio energetico. Il nastro è stato tagliato simbolicamente dal sindaco Gianni Morandi, assieme alla Giunta, ad alcuni consiglieri, al presidente dell'ente gestore Silvano Pernici e ad insegnanti e famiglie, nel corso di una mattinata di festa e novità. E i piccoli padroni di casa, con i loro grembiolini rosa e azzurri, hanno iniziato subito a prendere confidenza con i nuovi spazi a loro dedicati. 400 metri quadrati, suddivisi in tre sezioni, un'aula per l'accoglienza, i servizi igienici, una lavanderia, l'aula del sonno e una sala a insegnanti. La scuola materna di Nago ha ripreso le lezioni nel nuovo polo scolastico, che piano piano si sta popolando. Certo, oggi è una bellissima giornata, iniziamo l'anno nuovo, la nuova scuola per la scuola materna di Nago, e quindi dopo l'entrata delle scuole elementari di settembre, con l'avvio del nuovo anno scolastico, oggi è una bella giornata. Sono contento perché abbiamo superato un po' le problematiche inizialmente strutturali, cioè dovevamo completare la cucina, un po' di cose, poi burocratiche, quindi dopo qualche perplessità, prima di Natale abbiamo fatto gli incontri, abbiamo appianato tutte le perplessità che c'erano, le problematiche che c'erano, quindi si è deciso per traslocare, perché inizialmente volevano farlo a settembre con l'anno nuovo. Io sono contento, dopo la giornata storica di apertura del polo, oggi è un ulteriore obiettivo che a noi fa molto piacere, siamo veramente contenti per i bambini in primis, perché sono loro che poi adesso possono godere di una scuola più confortevole, ma soprattutto più sicure, quindi questo a noi credo che sia l'obiettivo primario. E poi per tutti quanti i genitori, anche tutti i dipendenti, le maestre, i servienti, tutti siamo contenti. E nella vecchia stade della scuola avete già idea di cosa sistemarci? Nella vecchia scuola adesso manterrà una destinazione pubblica, sia associazionismo sia anche istituzionale, quindi stiamo adesso, entriamo in possesso anche di quell'edificio che dobbiamo dare una seconda vita, visto che è fondamentale per il nostro paese, perché è in centro storico, è proprietà della parrocchia per la maggior parte, una piccola parte degli amici scuola dell'infanzia, e quindi con una convenzione, quindi siamo già d'accordo, adesso entreremo in possesso anche di quell'edificio, e gli daremo una seconda vita. Nel nuovo polo scolastico manca solo il nido adesso? Certo, adesso stiamo preparando anche il bando per il nido, così completeremo, andrà a regime questo nuovo plesso, che insomma sarà per tutti, con grande, grande, grande orgoglio. Quali sono le prime impressioni dopo questo ingresso nella nuova scuola? È un po' dei giorni che vengo qui, le impressioni inizialmente ero perplesso, e lo spiego subito, perché io mi creo il problema, perché io ho il problema del trasloco, quando c'è da fare io vado in ansia, però adesso che sono qui sono contento, mi è passata tutta la, ho scaricato tutta la tensione nervosa, adesso finalmente siamo qui, e stiamo qui, se ci sono problemi da risolvere, c'è la disponibilità dell'amministrazione comunale, e così andiamo avanti in sintonia e con chiarezza di intenti, perché gli intenti sia suoi che nostri, e tutta l'amministrazione sono quelli di far stare bene i bambini, è importante che stiano bene quelli.